Grazie. Grazie a tutti. Quindi è stato Roberto Reale che ha organizzato questo panel che modererò e saremo tre relatori, Flavia Marzano che è la prima di noi a prendere la parola, poi Marco Merola e poi Toccherami. Il titolo Sostenibilità digitale, idee, metodi, relazioni vuole proprio esplorare e fare i primi passi in quest'area di ricerca complessa interdisciplinare che è la sostenibilità digitale fondata sull'idea di valutare i costi e gli impatti ambientali della trasformazione digitale. La guarderemo da tre aspetti diversi. Uno è quello dei rapporti con la pubblica amministrazione, dei cambiamenti in quest'ambito che avvengono nella pubblica amministrazione. Poi dal punto di vista della comunicazione, di come comunicare la sostenibilità attraverso i mezzi digitali più adatti. E infine all'interno di un'impresa, osservando insomma proprio dall'interno alcuni passaggi alla digitalizzazione e vedere come questi sono connessi al valore della sostenibilità. Quindi passerei la parola alla prima relatrice che è Flavia Marzano. Io posso condividere lo schermo? Flavia ci sei? Sì, sono qui. Allora posso condividere io con... No, ma non ho slide comunque, quindi nessun problema. Avevo piacere di... Ah, per la presentazione. Sì, questa... comunque... vediamo se riesco. Sicuramente sì, eccolo qua. Eccoti qua con il titolo che... scusa, si apre. È cosa buffa che invece io ti vedo come Flavia Marzano anche a te, devi cambiare il tuo nome, credo, perché è vero che non sono unica al mondo, ma tu non sei Flavia Marzano. No, è strano tra l'altro. Non so come mai, ma... È vero. A me, comunque va bene. Non lo so. Non è grave. Magari provvediamo a fare una relazione e l'altra, avere un attimo di stacco così rientro con il link più appropriato. Volevo appunto dare onore a questo tipo di format, anche se noi ci siamo presi la libertà di renderlo più inclusivo, perché abbiamo modificato questo grigio chiaro in nero, proprio perché sia leggibile per tutti, o comunque per un pubblico più ampio. Io ci tenevo a sottolineare che Flavia, oltre ad essere un membro fondatore di Utopia, è professore straordinario e direttore del Master in Smart Public Administration alla Lean Campus University, è consulente per la pubblica amministrazione proprio sull'innovazione, fondatrice ed ex presidente di Stati Generali dell'Innovazione. È stata assessora a Roma Capitale per la Smart City dal giugno 2016 al settembre 2019, ed è fondatrice del gruppo WISTER, Women for Inclusive and Smart Territories, ed è confondatrice appunto e vicepresidente di Utopia. Allora, la parola a te, il titolo non è venuto completo con l'ultima modifica, ma non importa, sostenibilità digitale, governance dei dati nella pubblica amministrazione. Ti lascio la parola. Grazie, grazie davvero. Grazie di condividere lo schermo. Grazie mille, davvero. Volevo segnalare prima di tutto quello che ho dietro le spalle, che si chiama Posto Occupato. Per chi non conosce, su postooccupato.org lo trovate. È una cosa che di solito facciamo negli incontri fisici, ovviamente, cioè teniamo in platea un posto occupato, che è un posto per ricordare una donna vittima di violenza e che avrebbe potuto occupare questo posto e che invece per femminicidio non c'è più. Mi rendo conto sempre che questo intristisce immediatamente la platea, perché purtroppo è un dato veramente molto triste, ma è per non dimenticare, perché ognuno di noi ha il dovere di ricordare. E adesso proviamo a switchare verso un atteggiamento un po' più positivo. Abbiamo avuto un'esperienza durissima in questi ultimi mesi, è innegabile, ma volendola leggere in chiave positiva, credo che questo lockdown abbia dimostrato che si può fare tantissimo con il digitale. Lezioni, lavoro, servizi della pubblica amministrazione, rapporti di famiglia, incontri, conferenze, come oggi stiamo facendo, e si può fare tutto rigorosamente online. Ora, anche ammesso che questo non sia particolarmente efficace per quanto riguarda la chiave, la parola chiave di questo incontro che è la sostenibilità, sicuramente può supportare tantissimo il lavoro anche delle singole persone. Pensando anche soltanto ai dipendenti pubblici, che sono circa 3 milioni in Italia, e se anche solo uno su tre, anche solo un giorno a settimana, stesse a casa, non dico in smart working, ma in banale telelavoro, l'abbiamo visto, questo di questi mesi è stato telelavoro, non particolarmente smart. Lasciamolo, pur consideriamolo così, ma quindi anche se solo uno su tre, solo un giorno a settimana, sarebbero 200 mila viaggi al giorno risparmiati. E se poco inquina, un po' lo è comunque, ma sicuramente genera traffico, 200 mila persone che vanno anziché stare fermi, e sicuramente migliora la qualità della vita delle persone. Quindi si può fare, le tecnologie ce l'hanno forse forzato un pochino a farlo all'inizio, quindi forse non l'è stato fatto nemmeno nel modo migliore, perché appunto abbiamo dovuto velocissimamente rassegnarci alla soluzione, dalla giunta online appunto all'insegnamento scolastico. Adesso ci sono piattaforme, magari, visto che parlavamo anche un po' di etica, magari piattaforme anche open source per quanto riguarda soprattutto la pubblica amministrazione, visto che è una normativa ormai nemmeno più troppo giovane, quella che chiederebbe alla pubblica amministrazione di adottare preferibilmente soluzioni open source ed eventualmente motivare come mai non lo fa. Poi le pratiche digitali per i cittadini online ci sono, ci sono, ce ne sono tante in realtà, anche il rapporto Desi che forse avete visto, è uscito un paio di mesi fa, in cui l'Italia purtroppo ha perso un ulteriore posto nell'ambito delle competenze digitali generiche, che adesso chiamo così per semplificazione, ma ha perso un posto, ma se andiamo a vedere alcuni dati sulla media dell'Italia rispetto alla quantità di servizi online possibili, gli open data della pubblica amministrazione e i servizi per le imprese, siamo o in media o sopra media rispetto ai paesi europei. In che cosa quindi scendiamo così dolorosamente, e ahimè in quel punto siamo ultimi, è nella competenza digitale, quindi nella capacità dei cittadini e delle imprese di utilizzare al meglio le tecnologie. Allora io voglio sperare, pensare che questa del lockdown che ci ha forzato a fare questi interventi, ci possa essere da stimolo per imparare, per fare formazione. Dicevo per esempio le pratiche online. A Roma Capitale, dove giustamente Roberta raccontavi, sono stata per poco più di tre anni assessora al digitale, alle tecnologie, allo smart city, proprio con questa consapevolezza abbiamo fatto quelli che abbiamo chiamato punti Roma Facile, cioè dei punti dove io devo iscrivere mio figlio a scuola, non sono capace, non c'ho internet a casa, non ci riesco, non capisco il burocratese perché sono straniero, ci sono mille motivi per cui non lo posso fare, telefono, tra l'altro anche il numero 060606, che è un numero diffuso e conosciutissimo, prendo un appuntamento e trovo una persona che mi dedica mezz'ora del suo tempo, lo prendo in uno dei punti, in quello che mi è più vicino, che mi è più comodo, perché passo di lì per andare a lavorare o perché è vicino casa, non importa, prendo appuntamento e trovo una persona che mi aiuta ovviamente a scrivere mio figlio a scuola, che questo è l'obiettivo primario, ma mi insegna, cioè mi dedica mezz'ora del suo tempo per imparare e quindi per abbattere un pochino questo divario digitale. Si possono fare queste cose, quindi non è soltanto che c'è un po' di carta in meno e perché no qualche albero in meno che buttiamo giù ed è tutta salute per il nostro pianeta, ma è anche la capacità di aiutare il cittadino un po' meno competente a farlo. E ora a proposito, se mi dai un altro minuto di risparmio sulla carta, mi è venuta in mente un altro elemento. Appena arrivata in giunta, insomma al Comune di Roma, succedeva così. Il giorno prima della giunta ci arrivavano via mail i pdf con le delibere che avremmo dovuto discutere il giorno dopo. La mattina della giunta sulla scrivania mi sono trovata un bel pacco di stampate, di delibere stampate. Ok, arrivo in giunta, ne trovo un altro pacco uguale, identico, perché chiedo ma com'è, è la stessa Roma. Quindi per ognuno di noi, assessori, sindaca, tutti gli uffici per cui segretariato, ragioneria, cioè si trovavano due pacchi di carta enormi, quindi un paio di alberi ogni giunta buttavamo giù praticamente, oltre al fatto che queste cose venivano fatte da un'azienda esterna che le consegnava fisicamente, quindi con l'automobile, in giro per la città andando di assessorato in assessorato. Ho fatto una cosetta che all'inizio è sembrata un po' forte, diciamo, ma che ha funzionato bene. Questa cosa costava 450 mila euro l'anno, l'anno, perché era appunto data in appalto esternamente. Ho comprato un tablet a ognuno dei membri della giunta. Un tablet, immaginatevi, che costa anche bellissimo, ma insomma più di mille euro, mille e cinque non costa, quindi con una cifra di almeno un ordine di grandezza inferiore a quella che era il costo anno, per sempre, perché un tablet due, tre, quattro anni lì dura, ho comprato un tablet per cui tu in giunta, anziché venire con la carta, vieni col tuo tablet. Dematerializzazione, dematerializzazione vera. Questo io credo che sia una cosa che ora più che mai è davvero fattibile. Se poi non sei capace, impari. E poi, visto che c'è sempre qualcuno che dice ma io preferisco la carta, e allora ho inventato un acronimitto. Sapete che esiste il BIOD, che è Bring Your Own Device, cioè porta il tuo dispositivo per poter lavorare direttamente in ufficio, quello che è. Io ho inventato il BIOD, che è Bring Your Own Paper. Se tu te la vuoi stampare, ti porti la carta da casa, perché il Comune di Roma non te la regala, perché sono non solo soldi inutili, ma è davvero inquinamento e carta sprecata. Quindi, con questa consapevolezza che si possono fare, il livello di consapevolezza è cresciuto, il divario digitale si può abbassare, io credo che possa davvero ripartire l'Italia e nella giusta direzione. Non ti sentiamo Roberta. Grazie, grazie mille Flavia. È veramente un punto di vista particolare, privilegiato il tuo, perché ci puoi raccontare proprio quello che è successo. Insomma, abbiamo intitolato questa sessione un approccio maturo a quella che è la sostenibilità digitale e si può dire che hai cominciato presto, stai continuando ad occupartene, e quindi io volevo chiederti se avevi notato una sorta di cambiamento. È molto bello, intanto, grazie per questa positività, anche di aver occupato il posto, di aver occupato questo posto, perché tutto sommato io lo trovo un messaggio positivo, di presenza, quindi positivo, non di assenza, perché quello è negativo. Intanto grazie per questo, ci tengo a sottolineare, lo apprezzo molto. Poi ti chiedevo se questa positività viene anche dall'avere osservato nel tempo una crescita, appunto una maturazione dell'approccio digitale, oppure se hai visto che ci sono degli scogli molto duri, se appunto nonostante gli hardware forniti ci sono delle resistenze ad apprendere queste soft skills. Guarda, no, a dire il vero, certo, all'inizio uno dice, ma come era tanto più comodo prima, però poi ovviamente poi si impara, ma poi nessuno dei miei colleghi non era in grado di utilizzare un tablet, quindi era solo la resistenza al cambiamento, abbiamo sempre fatto così, e la resistenza al cambiamento di esseri umani ce l'hanno, secondo me, embedded nella loro essere umani, ai noi. E il cambiamento uno lo deve poi capire, però non solo ho visto il cambiamento, ma anche, appunto, si è visto adesso. Io, ecco, questa è un'altra esperienza quindi due o tre anni fa ero ancora appunto assessora e a volte succedeva che per avere il numero legale in giunta mancasse una persona. Visto che gli assessori venivano da tutta Roma e quindi magari si rischiava di aspettare anche mezz'ora, un'ora per poter avere il numero legale, avevo proposto alla sindaca di consentirmi di provare a cercare soluzioni per fare la giunta online, non completamente, ma per uno o due persone al massimo che potevano avere difficoltà o essere in trasferta in un'altra città per lavoro, ma potevano comunque quel paio d'ore dedicarle alla giunta per garantirci il numero legale. Lei mi ha autorizzata, ho preparato la soluzione, ma voglio dire, anche quella che stiamo usando oggi è una soluzione banalissima in cui tu mi vedi, mi riconosci, se non mi riconosci ti faccio vedere la mia carta d'identità, poi c'è la firma digitale, quindi per firmare il documento era facilissimo. Il problema è che purtroppo quando sono andata a parlare con gli uffici si sono ritratti in maniera terribile, prima dicendo, eh però non c'è un regolamento che lo garantisce, dico, vabbè, facciamolo, cioè si può fare un regolamento, adattare il regolamento esistente a una nuova cosa. E però, vede, lei, chi mi garantisce che mentre sta parlando al video lei non ha davanti qualcuno che punta una pistola e la obbliga a votare a favore o contro la delibera che sarà in giunta. E ho detto, certo, nessuno, salvo il fatto che a lei nessuno garantisce che io cinque minuti prima di entrare in giunta non abbia ricevuto una telefonata da qualcuno che mi ha detto ho rapito tuo figlio, guarda che se non voti contro quella delibera lo uccido. Quindi è uguale. Ah, però è vero. Però purtroppo ecco, io in questo mi dispiace di non avere insistito perché se avessi insistito, quando poi a marzo è arrivato il lockdown, lo avrebbero fatto con molta più facilità. Lo hanno fatto lo stesso perché poi il Dipartimento Trasformazione Digitale sa lavorare, lavora bene, però l'hanno fatto con un po' più di fatica anche di adattamento alla nuova situazione. Quindi adesso il livello di consapevolezza secondo me davvero è cresciuto. anche nella politica, anche nella politica che non si occupa specificamente di digitale, anche perché l'innovazione è veramente trasversale. Come si fa a parlare di scuola senza parlare di digitale, di urbanistica senza parlare di digitale, di mobilità senza parlare di... veramente tutto quello di cui si occupa una pubblica amministrazione, il digitale è il filo conduttore che comunque porta a risolvere i servizi online, il portale, il sito, la comunicazione, sono tutte cose che funzionano appunto online. Quindi credo che sia aumentata la consapevolezza. Ancora dobbiamo fare quel passaggio che dicevo del rapporto Daisy, quindi di formazione. Tra l'altro il governo ha fatto una cosa che si chiama Repubblica Digitale e un'altra che si chiama Sostenibilità Digitale, cui anche come Utopian abbiamo aderito e con cui facciamo i nostri seminari, proprio di formazione anche. Abbiamo bisogno di abbattere il divario digitale, dobbiamo fare molta formazione. I punti Roma Facile sono un esempio, tra l'altro è un problema di Flavia o è mio? Credo di Flavia perché io ti vedo bene. Ok, aspettiamo ancora un minuto, vediamo se si decongela e altrimenti ti passo la parola perché in realtà considerando qualche minuto di ritardo con cui abbiamo iniziato e qualche minuto che io gliene darei ancora di più, avevo proprio piacere di chiederle anche qualcosa rispetto alla cultura dell'open source, degli open data, perché so che è una pioniera anche in quello nell'ambito della pubblica amministrazione, quindi mi faceva piacere. Se ci sono suggerimenti dagli amministratori della sessione io li accolgo, altrimenti passo la parola a Marco, Marco Merola. È caduta la connessione, quindi andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Marco vuoi per favore condividere il tuo schermo con la tua presentazione? Grazie. Puoi andare per favore sullo schermo? Grazie, vai ancora avanti, perché queste sono tutte uguali, c'è solo il tuo nome, io ci tenevo invece a leggere il tuo profilo per presentarti. Con Marco ci conosciamo da un po', abbiamo lavorato già insieme, con molto piacere. Lui è un giornalista, un divulgatore scientifico da oltre vent'anni, si occupa di scienza, tecnologia e di grandi temi di interesse pubblico. Ha firmato reportage per diversi magazzini italiani ed esteri, li vedete in parentesi, non sto a leggerli tutti, però insegna anche al master in reportage di viaggio all'Università Tor Vergata di Roma. Ho tagliato altre esperienze chiave che ha avuto, ma vi accorgerete del taglio particolare che ci darà nella sua presentazione. è stato keynote speaker in contesti internazionali, tra cui la European Science Open Forum a Manchester nel 2016, a Toulouse nel 2018, l'Università di Delft, il Festival for the Heart, e poi è un TEDx speaker. È creatore del WebDoc, ed è qui che ti voglio, Marco, raccontarci di questa esperienza che è partita in Olanda, ed è una piattaforma digitale di comunicazione che va arricchendosi di contenuti e tratta i temi dell'adattamento al cambiamento climatico. Il titolo di questo WebDoc, ma un po' di tutto il tuo viaggio, iniziato ancora prima della nascita del WebDoc, è Adaptation, chiaramente evocativo della Climate Change Adaptation. Tu hai tenuto su questo tema anche un modulo di lezione nel master omonimo proprio quest'anno. Ridiamo il bentornata Flavia. Noi per motivi tecnici siamo andati a... La rete è crollata, avete fatto bene, ma comunque avevo finito, quindi perfetto. Grazie mille. Io mi riservo se dopo avremo dei minuti in più. Mi piacerebbe chiederti qualcosa su un po' la gestione dell'open data e del concetto un po' dell'open source, di come è cambiato anche l'approccio nell'APA, perché insomma oltre alle soft skills ci sono i software da comprare o no, ma la lasciamento spesa di questa domanda poi vediamo. Intanto Marco, non interrompo il flusso di tutte le cose bellissime che hai fatte, e ti lascio all'adattamento al cambiamento climatico, come la tecnologia ci permetterà di vivere nel nuovo mondo con un approccio che però dai tu a questa presentazione che è proprio relativo alle modalità e mezzi comunicativi che utilizzi. Grazie. Sì, grazie, grazie Roberta per la bella presentazione che hai fatto. Allora, andiamo subito nel nucleo caldo della mia presentazione. In realtà qualche cosa si intuisce già dal titolo. Io parlerò, visto che siamo all'Internet Global Forum, parlerò di digital e di digital transformation, di uso del digital in due direzioni diverse. Innanzitutto dal punto di vista, diciamo, di come questa modalità può essere applicata al discorso del cambiamento climatico. Quindi che cosa significa unire i concetti di digital e di cambiamento climatico. E poi, come giustamente quasi spoileravi tu, l'altra direttrice che seguirò sarà quella che mi è più consona in assoluto, essendo io un giornalista e un comunicatore scientifico, e cioè spiegare molto brevemente come ho utilizzato le modalità più nuove di racconto giornalistico, diciamo 3.0 possiamo definirlo, quindi basato molto su una piattaforma digitale, proprio per raccontare il cambiamento climatico, ma con un approccio e, diciamo, con un'ottica un po' particolare rispetto a quello che è invece il racconto del cambiamento climatico che viene fatto tutti i giorni da tutti i media mondiali, possiamo dire. Andiamo dunque nel vivo della presentazione. Il concetto di adattamento che io e i miei colleghi dello staff di Adaptation, poi dopo ci sarà una slide su questo, li presenterò bene, naturalmente non sono solo a portare avanti questo grosso progetto giornalistico, ha, dicevamo, come parola chiave Adaptation, che è poi il nome del progetto stesso, cioè adattamento, una parola che si è cominciata a udire nei consensi internazionali più o meno nel 1997, anno del famoso protocollo di Kyoto. Ci sono voluti più di vent'anni perché questa parola adattamento fosse realmente sdoganata e compresa, non solo, diciamo, dai stakeholder politici, quindi dalla politica, ma anche, naturalmente, dai cittadini e dalla gente comune. Ben me ne sono accorto io che da due anni giro il mondo a fare presentazioni e talk su Adaptation e appunto ho dovuto confrontarmi con gente che aveva completamente equivocato, e anche con politici, che avevano completamente equivocato la parola adattamento e il senso dell'adattamento. Pensavano che volesse dire che dobbiamo rassegnarci al cambiamento climatico, quando invece, diciamo, i più tecnici sanno che l'adattamento è una misura che va integrata con la mitigazione, cioè con la riduzione della CO2. Ma capiremo poi bene, meglio, che cosa intendiamo per adattamento. Io, dovendo declinare il concetto di adattamento e legandolo al tema del digital, che è appunto il focus centrale dell'IGF 2020, ho, come dire, preso alcuni casi, alcuni case histories, che mi sembrano più che eloquenti e esemplificativi di questo matrimonio possibile e auspicabile fra il digital e le ragioni, diciamo, dell'umanità che, voglio dire, lottano contro gli effetti devastanti del cambiamento climatico. Uno degli ambiti più interessanti, naturalmente, è quello delle città. Sappiamo, da dati, diciamo, riportati da studi fatti e commissionati da grandi entità di ricerca di tutto il mondo, che nel giro di pochissimi anni circa il 70% dell'umanità, quindi degli esseri umani, vivrà nelle città. Per una forza, diciamo, centripeta, verranno via ancora di più dagli ambienti circostanti, dagli ambienti naturali, dalle campagne, per andare a, come dire, vivere tutti quanti ancora di più di quanto già facciano oggi nelle città, che quindi cresceranno ancora di più a dismisura. Dunque, il primo concetto importante di adattamento è quello di legarlo alle città, alle esigenze della città. Questo grafico, questo bello sketch che ho messo qui, spiega quanto è importante il digital e quanto è importante la rete, quanto è importante il discorso della connessione anche dell'IoT, dell'Internet of Things, quindi del colloquio fra le tecnologie, fra i vari devices, fra i vari oggetti tecnologici all'interno di una città. Non parliamo del concetto di IoT diciamo con cui magari viene spesso venduta, tra virgolette, la tecnologia al grande pubblico, cioè tipicamente il tostapane che dialoga col frigorifero o il termosifone che dialoga con la lampada o via discorrendo, spesso, diciamo, focalizzando più sull'ambiente casa il discorso dell'IoT. L'IoT ovviamente è qualcosa di molto più grande che riguarda tutto il mondo interconnesso intorno a noi, essenzialmente, perché è importante anche a livello diciamo di confronto col cambiamento climatico. Non parliamo di lotta perché non mi piace il discorso della lotta, la guerra fra l'uomo e il clima, una guerra che non vinceremo mai perché non ha ragione di essere combattuta. In realtà possiamo solo difenderci e solo essere compliant e solo essere il più possibile quelli che abbracciano il cambiamento. Bene, dicevo, come si riporta questo discorso agli effetti del cambiamento climatico e alla convivenza. Beh, per esempio, se pensiamo alla sensoristica, quanto è importante in una città, per esempio, per permettere, avrò una slide su questo, il cosiddetto early warning, quindi quando arrivano dei fenomeni meteoclimatici estremi devono scattare delle procedure di vita, delle procedure, diciamo, di azione, quando non addirittura devono scattare proprio delle cose fisiche. Pensiamo, per esempio, al mose che si alza quando l'acqua raggiunge a un certo livello, ma pensiamo anche alle paratoie che chiudono tanti fiumi italiani e devono impedire che arrivino, deve impedire che arrivino delle grosse onde di piena o deviare il corso dei fiumi e l'acqua, o pensiamo ad altre tecnologie che sono in campo proprio per permettere ai territori che non sono, diciamo, nelle condizioni di sostenere il carico ormai pesantissimo degli eventi meteoclimatici estremi. siamo freschi delle ultime tragedie successe in Piemonte e nel nord-ovest d'Italia dove abbiamo visto delle scene incredibili in televisione ma purtroppo scene a cui siamo ormai drammaticamente abituati perché prima di lì sono successe in altre parti d'Italia, ricordiamo il Secchio e il Panaro in Emilia Romagna, ricordiamo i fiumi in Sicilia, gli alluvioni in Sardegna, nel centro Italia. Sappiamo che l'Italia è un paese estremamente a rischio perché ha un quadro idrogeologico già abbastanza critico, non è una cosa che dico io, Fonte Ispra, se qualcuno è interessato ad andare a diciamo approfondire questo tema. Quindi già l'Italia è ingegnerizzata, già ci sono una serie di protezioni, di barriere, di sistemi che ci consentono purtroppo ancora troppo poco di adattarci ai fenomeni meteoclimatici estremi. La sensorizzazione e l'internet che collega tutte queste cose, il controllo da remoto possibile attraverso il digital è sicuramente un asset fondamentale dal punto di vista tecnologico per consentire a queste tecnologie di funzionare sempre più e sempre meglio. Naturalmente passiamo dal concetto di adattamento delle città alle città adattate, cioè dobbiamo pensare questa slide l'ho messa perché questa fotografa una visione di un gruppo di architetti che hanno partecipato a un contest internazionale bandito dall'ONU dove si dovevano immaginare le città del futuro. Il progetto che ha vinto che è questo si chiama Oceanics e racconta proprio della possibilità di vivere sulle acque in un mondo dove probabilmente entro il 2100 si dice che il mare potrebbe crescere, potrebbe salire di livello tra 70 centimetri e un metro, ancora diciamo è difficile stabilire esattamente il range di innalzamento delle acque ma sappiamo per certo che le acque si innalzeranno perché si stanno già innalzando con una certa velocità e allora dovremmo imparare a vivere sul mare e lo dovremmo fare con la possibilità di essere anche lì connessi, iperconnessi ancora di più perché avremo la terraferma probabilmente lontana non si sa da quanto e vivremo in macroisole forse in macroarcipelaghi e dovremo avere dalla nostra ovviamente una tecnologia stabile dovremo avere quante più possibili diciamo applicazioni digitali e oggetti tecnologici che ci consentano la vita in un ambiente su un ambiente che è tipicamente uno degli ambienti per l'uomo più innaturali e soprattutto più estremi e più unfriendly come è il mare che è ovviamente un dominio voglio dire che noi ancora conosciamo pochissimo ma è anche il dominio più presente sul pianeta visto che già oggi ricopre i due terzi del pianeta e domani quando l'acqua si innalzerà probabilmente ricoprirà i due terzi più un pochino dicevo prima parlavo dell'importanza della sensorizzazione questa immagine di recente realizzata durante il progetto Adaptation l'abbiamo scattata a Forlì ed è la sala di controllo di una grande importante multiutility italiana che si occupa di energia e di tanti altri servizi è sicuramente la sala di controllo più impattante che ci sia ci ha particolarmente colpito perché ricorda una di quelle sale probabilmente del NASA Space Center negli Stati Uniti da dove gli ingegneri aerospaziali esultano quando il lancio di un razzo va a buon fine il satellite viene rilasciato o il lander atterra su un pianeta del sistema solare su Marte presumibilmente bene l'immagine ricorda assolutamente un po' quello con la differenza che qui non si lanciava nessun razzo non c'era nessun satellite ma si faceva qualcosa di probabilmente altrettanto anzi sicuramente altrettanto fondamentale per le persone così come andare a conoscere ovviamente gli esopianeti ma conoscere qual è lo stato del proprio territorio in relazione ad alcuni asset principali con cui ci confrontiamo quotidianamente cioè acqua luce elettrica fornitura di gas cioè capire in tempo reale ecco l'early warning dove c'è una criticità dove c'è un problema e andare a intervenire in maniera da minimizzare gli effetti di questo problema se solo pensiamo a quanto è sforacchiato il sistema acquedottistico italiano e a qual è la percentuale di acqua che viene persa in un anno perché appunto c'è una scarsa manutenzione o spesso non si conoscono neanche esattamente i tratti di acquedotto dove ci sono questi problemi queste fratture essenzialmente da dove quest'acqua fuoriesce bene capiamo che in un paese che comincia ad avere veramente tanta sete perché ci sono parti d'Italia pensiamo al meridione dopo abbiamo anche una slide su questo dove c'è tanta sete quanto è importante tenere l'acqua quindi ancora una volta il controllo da remoto quindi control early warning capire subito dove c'è una criticità assicurare soprattutto la prosecuzione del servizio perché la gente non può stare senza acqua immaginate le guerre di piazza le immagini a cui siamo abituati forse anni 70 che abbiamo avuto a volte il fazionamento dell'acqua per certe criticità o per certe cose adesso immaginate la gente che va con i bidoni alle fontane ancora succede qualche volta però è una cosa che ci siamo un po' lasciati alle spalle quindi resilienza e adattamento vuole anche dire garantire alle persone di avere sempre l'acqua che esca dal rubinetto ma insieme a quello c'è il discorso del saving water quindi del risparmiarla e soprattutto del monitorare le strutture per capire quando quest'acqua va via poi l'ultimo concetto che volevo trasferirvi e poi abbiamo un video di un minuto che ho chiuso il concetto delle campagne adattate perché non sono solo ovviamente gli ambiti urbani dicevamo ma anche la campagna questa immagine è molto bella secondo me è molto eloquente questo è un ulivo queste sono foglie di un ulivo tipicamente Roberta che ovviamente l'ha immediatamente individuate forse gli altri io non sarei stato in grado ma l'ho fatta io quindi so che si tratta di un ulivo e c'è un appunto un sensore applicato addirittura su una foglia sulla faccia superiore della foglia di ulivo ed è un sensore che misura lo stress idrico quindi spiega in tempo reale qual è la situazione di approvvigionamento di acqua di questa pianta di ulivo e manda immediatamente un warning su smartphone all'agricoltore all'ulivicoltore che sa immediatamente quando e quanto deve dare acqua alla pianta diciamo a quel gruppo di piante ovunque gli sia chiaramente grazie alla rete grazie alla tecnologia digitale è in grado di aprire i rubinetti nel momento giusto e per il tempo giusto senza fare quelle irrigazioni a pioggia di cui purtroppo siamo testimoni ancora oggi in tantissime parti d'Italia e veramente a me piange il cuore quando vedo quelle grandi ale che buttano acqua per ore peraltro spesso sono attive alle undici a mezzogiorno in estate che è una follia totale perché il momento forse peggiore per dare acqua chiunque abbia il pollice verde sa che le piante vanno innaffiate sicuramente in momenti freschi perché altrimenti il tasso di evaporazione è più alto e quindi chiaramente si spreca più acqua ecco questo è un altro esempio virtuoso di come l'agricoltura cosiddetta 4.0 che si compone di tante cose ma una di queste sicuramente l'alta sensorizzazione può funzionare e sempre nel discorso delle campagne adattate questa è un'altra immagine fatta in Calabria siamo nel marchesato di Crotone Crotone forse alla palma di parte d'Italia area d'Italia oltre ad area appunto della regione Calabria a più alto tasso di desertificazione e a più alto rischio in previsione di desertificazione nel prossimo futuro significa che praticamente il processo avanza per un diciamo un combinato disposto di varie ragioni ma soprattutto ovviamente la natura è anche qui climatica essenzialmente uno degli effetti a valle del cambiamento climatico e questa immagine ora racconta del cosiddetto processo di minima lavorazione della terra cioè vuol dire che pur di rimanere a coltivare questi territori gli agricoltori calabresi diciamo hanno messo in campo tutto il know-how che gli deriva dalla tradizione dalla cultura ma anche dagli studi più recenti infatti ci sono anche specialisti pedologi e agronomi che lavorano per consigliarli gli agricoltori non sono più soli se non vogliono essere soli possono avere la consulenza di ricercatori che spiegano loro come agire per adattarsi alle mutate condizioni del clima quindi qui appunto vediamo questa minima lavorazione che prevede una ratura molto superficiale e non andare a violentare il terreno più di quanto già non lo sia solitamente ma l'ho messa per ricordare che una delle tecnologie utilizzate molto in Calabria come in tante altre parti del mondo una tecnologia che nasce in Israele è quella della cosiddetta irrigazione goccia a goccia cioè andare a portare l'acqua che serve alle singole piante anche lì senza sprecarne di altra ovviamente anche questo è un processo che spesso anzi quasi sempre ormai è digitalizzato ed è controllabile da remoto grazie appunto alle tecnologie che vengono messe in campo il web doc di cui parlavamo all'inizio tutti questi contenuti che vi ho diciamo adesso in maniera un po' spot presentato sono una piccola parte di quello che stiamo facendo sono riuniti in questo lavoro che è appunto un web doc dicevamo a sua volta un lavoro nuovo dal punto di vista digitale una forma di racconto dicevo 3.0 che non è un sito web per carità di Dio chiunque abbia intesa ecco un altro sito web non è un sito web si appoggia su un indirizzo fisico come un sito web cioè c'è un www www.adaptation.it molto semplice da ricordare ma non è un sito web perché il sito web è qualcosa una sorta di vetrina un po' passiva che qui invece non è previsto qui c'è un racconto anche molto emozionale anche interattivo per entrare nei temi dell'adattamento e fare un giro del mondo dell'adattamento come diciamo stiamo facendo e come vogliamo noi raccontare chiuderei appunto con un innanzitutto dicevo non sono solo in questo progetto ho uno staff ormai abbastanza grande ricordiamo a cappella Marco Barretta videomaker Luca Salice The Trip Communication The Trip Agency di Roma che si occupa della parte tecnica giusto per dare dei credits chiuderei la mia presentazione ancora con un minuto della vostra attenzione con un teaser video che abbiamo girato proprio in Calabria che racconta un po' come trattiamo il tema dell'adattamento al cambiamento climatico di Roma a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, con questo chiudo, vi ringrazio, spero di non essere stato lungo, sono aperto ovviamente alle tue domande Roberta, grazie. Grazie Marco. Io ho trovato emozionante esplorare il web doc e quindi posso solo consigliare di andare a vederlo a schermo intero come merita, come minimo insomma merita. Approfitto, visto che hai citato questa meravigliosa regione che è la Calabria, meravigliosa e controversa anche nelle prospettive, da come ci hai detto. Approfitto per salutare il presidente dell'ordine degli agronomi della regione Calabria che è Francesco Cufari e so che ci sta seguendo, lo ringrazio perché sentiamo sicuramente la sua presenza, insomma sempre positiva, propositiva e volta all'innovazione, schietta anche con le istituzioni, veramente una persona preziosa sia per gli agronomi che per i cittadini insomma della sua regione. E ha avuto anche la lungimiranza appunto di essere il primo di queste tue soste presso del Grand Tour, dell'Italian Grand Tour alla Calabria, quindi ha avuto la lungimiranza di accoglierti per primo, ecco, si è messo in avanti posto. Quindi complimenti Marco e grazie. Ti volevo chiedere un attimo per tornare a bomba sul tema di questo incontro, perché è meraviglioso per me come agronomo guardare come hai saputo mettere insieme il pannello di controllo UR Stellari con il sensore sulla foglia, però effettivamente mi rimandano entrambi all'idea della gestione della complessità. Allora, i tecnici chiaramente devono avere a che fare con una serie di dati, di informazioni, quindi di informazioni quantitative da trasformare poi in qualche modo in informazioni qualitative e anche accessibili, no? Quindi volevo proprio che tu ci raccontassi del tuo entusiasmo di poter godere appunto del dato e dell'accesso a questa nuova tecnologia digitale nel tuo lavoro. Sì, come immagini, diciamo, per portare informazione qualitativa e, come dire, basata su dati certi al pubblico, bisogna che io, che noi che facciamo questo lavoro, non solo per un discorso di semplice etica, ma proprio per un fatto, diciamo, pratico, nel senso che dobbiamo appunto trasferire conoscenza alle persone, adaptation nasce per questo, no? Nasce con l'idea di mettere in circolo conoscenza, di mettere in circolo know-how, belle expertise, sane expertise di adattamento al cambiamento climatico. Naturalmente il discorso dei dati è un discorso che completa tutto questo. Noi accediamo a dei dati, accediamo a della conoscenza, dobbiamo, come dire, interpretarla perché il problema è che purtroppo, o per alcuni versi per fortuna, diciamo, questa conoscenza spesso è appannaggio, ovviamente, degli addetti ai lavori e con difficoltà poi arriva al pubblico. E qui mi riferisco sia ai dati to core, quindi proprio i numeri, che spesso raccontano tanto, ma devono anche essere messi in fila e devono essere messi in fila bene. Spesso, diciamo, l'unico collo di bottiglia da cui escono questi dati è la politica, ma la politica sappiamo che i dati li maneggia un po' come gli pare, essenzialmente, no? Cioè non siamo mai sicuri che i dati siano veramente quelli. Invece, sperando che il pubblico ci degni della sua attenzione e della sua fiducia, chi fa il mestiere del giornalista e del comunicatore è scevro, naturalmente, da dinamiche di tipo politico o di tipo opportunistico è l'unico lavoro che deve fare. No, no, beh, oddio, almeno noi cerchiamo di esserlo, poi non possiamo parlare per tutti, naturalmente, però diciamo che proprio perché la nostra mission è quella di raccontare un cambiamento climatico, attenzione, non positivo, ma che può essere abbracciato in maniera positiva e con cui si può convivere se si mettono in atto delle azioni, è chiaro che abbiamo, come dire, l'onere e onore di essere particolarmente specchiati da questo punto di vista, cioè prendere le conoscenze, studiare le tecnologie, studiare i dati e trasferirli nella maniera più seria e possibilmente comprensibile al pubblico, e questa è la grande sfida della divulgazione. Infatti abbiamo proprio bisogno di stare connessi tra tecnici e comunicatori in grado di fare questo lavoro, delicatissimo. Grazie Marco, io devo smetterla anche a te, vorrei fare tante domande perché tra l'altro appunto conosco alcuni retroscena, quindi saprei cosa chiederti, però devo tenermi un minimo di otto minuti. Possiamo fare una cosa che non ho fatto, perché mi sa che ho chiuso prima la, no, perché se qualcuno che all'ascolto volesse informazioni noi gliele diamo. Questa è una buona idea, puoi metterlo anche in chat se hai un link oppure una... Sì, ecco qui, sì, lo metto anche in chat, tanto è letta a tutti, comunque questa è la mia mail, volentieri rispondo a tutti, diciamo con un lapse possibilmente di un giorno se sono troppo incasinato, comunque adesso la mettiamo sicuramente anche nella chat, adesso la scrivo così la leggono tutti. Ok, fine dello spot autocelebrativo. Bene, meno male perché appunto volevo provare a invece aprire, condividere di nuovo il mio di schermo e provare a presentarmi invece qualcosa di... Vediamo se ci riesco, sì. Qualcosa che riguarda una mia esperienza recente, cominciata un anno fa, qui a Berlino, con l'azienda Agrater, con cui sto collaborando. È un'esperienza che, insomma, ho vissuto appunto in quest'anno che poi è arrivato anche il Covid, no? Quindi è stata una grande innovazione per me personale, però insieme abbiamo anche vissuto tanto cambiamento come tutti. Ho voluto coinvolgere i miei colleghi nelle riflessioni, intanto in maniera un po' più ampia su tutta la riflessione relativa al digitale. Devo dire anche ogni tanto, confrontandomi proprio con Roberto Reale di Utopian, che mi ha dato delle belle dritte, ho portato appunto in azienda, ho cercato di portare appunto una spinta in più verso il digitale. E adesso abbiamo approfittato di questo invito per condividere delle riflessioni con loro e quindi con voi. La presentazione è scritta in inglese, come tutti finalizziamo le cose all'ultimo momento, quindi perdonate eventuali rifusi. Vi presento Regine Berges, che è la mia collega, è un'esperta di food in generale, ma lei è pazzesca perché è sempre nell'hotspot giusto di tutto quello che è nuovo. Lo sa lei, è pazzesco starle accanto, è un piacere perché è sempre ricchissima di spunti. Quindi lei è chiamata un po' l'anima verde dell'azienda ed è già in azienda da cinque anni, è una valutatrice di progetti locali e internazionali e si occupa in particolare adesso di seguire due progetti europei sul public procurement del food e sul food shift a regimi alimentari vegetariani. Li seguiamo insieme tutti e due, quindi lei è più spostata su questo settore specificamente, io da lì anche su quelli più agricoli. Infatti io sono un agronomo economista agrario, sono ancora membro dell'Ordine degli Agronomhi, sono stata consigliere dell'Ordine degli Agronomhi a Bologna, per questo conosco bene, so quello che ho detto su Francesco Cuffer che ci seguiva. Sono sempre stata un consulente indipendente e adesso appunto ho deciso di collaborare in pianto un po' più stabile con questa azienda tedesca. Andiamo alla presentazione perché vorrei non rubare tempo poi alla sessione successiva, che è quella che raccoglie tutti i contributi, grazie ai rapporteursi. L'appunto che volevo fare era questo, riguardava appunto un'ottica di impresa. Come è sostenibile questo smart working nel quale ci siamo coinvolti, lasciati coinvolgere? L'azienda si trova alle porte di Berlino, si chiama Agrater ed è un'azienda che si occupa di fare dell'innovation brokering a livello internazionale sui temi dell'agricoltura, dell'ambiente e della gestione del paesaggio. E segue questo approccio agroecologico prendendo il nome di questo agronomo Ter, per cui il nome risulta così strano, Agrater. Allora, il tema da cui partiamo è appunto l'innovazione, perché noi ci occupiamo di gestire l'innovazione. Facciamo innovation brokering, quindi ci occupiamo di coinvolgimento di portatori di interesse. E siamo già un'azienda di queste piccoline, una piccola media azienda, che ha avviato da tempo un processo di digitalizzazione. Insomma, prima che io arrivassi, loro già avevano questa condivisione di documenti su un server comune. Era già possibile fare del lavoro da casa almeno una volta a settimana, membri dell'Alleanza per l'Internet of Things, anche contributori attivi. Poi, insomma, quando sono arrivata io abbiamo contribuito ancora di più. E scusate, vedete i refusi. Quindi, riconosciuti come specialisti nella digitalizzazione dell'agricoltura, grazie a dei progetti fatti con le IP, quindi con i gruppi europei per l'innovazione. E anche stavano sviluppando, e poi è stato sviluppato sempre di più, questo online marketing di servizi relativi all'ambiente, alla fornitura di servizi ecosistemici. Si chiama Agora Natura, è un mercato che vende proprio dei progetti, quindi non è un crowdfunding, ma è come dire sostieni questo progetto e in qualche modo lo puoi mettere nei tuoi accounting, nel tuo bilancio aziendale come corporate social responsibility o comunque come strumento per validare la tua anima green. Che cosa è successo con il Covid 2019? Quello che è successo a tutti, quindi abbiamo dovuto accelerare la digitalizzazione, accelerarla, approfondirla. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a condividere i documenti in più server. Perché? Perché il server aziendale collegato a quello di un altro centro di ricerca non era sempre accessibile da tutte le postazioni. Allora abbiamo dovuto imparare a gestire più luoghi, cloud, non cloud, condivisione anche per piccoli gruppi di documenti. Le singole cose le sapevamo già fare, però abbiamo dovuto districarci nel farne sempre di più e nel coordinarci. Non perderci, non spaventarci nel fatto che alcuni documenti erano lì, altri in là. Quindi realizzare questo ordine più complesso, no? Che per un italiano magari, però farlo in modo tedesco è già più complicato. L'home office ovviamente è aumentato tantissimo, in alcuni momenti è stato del 100%, ma è tuttora del 60%. Io mi sto ricevendo da casa, anche perché rimanere in azienda oggi, che era un giorno da stare in azienda, sarebbe stato molto complicato per via dei treni, quindi sono ritornata qua. Abbiamo imparato come utilizzare nuove piattaforme e facilitare i meeting. Quindi questa digitalizzazione non è stata solo interna per i processi interni, ma è stata una digitalizzazione che abbiamo portato anche all'esterno, perché ci siamo resi conto che se non noi, chi doveva aiutare anche gli altri, i nostri portatori di interesse, nonché clienti, a essere più digitali? E come facevamo a fornire i servizi? Come avremmo potuto fornire i servizi di stakeholder engagement se non attraverso le piattaforme digitali? Quindi abbiamo dovuto farlo. All'inizio abbiamo anche investito su dei trainer esterni, perché anzi, questo lo stavamo iniziando a fare già prima del Covid, perché ci rendevamo conto che i webinar, anche se è una parola che non si può più usare, perché penso sia andata sotto privativa, comunque i meeting online erano sempre più diffusi. Poi abbiamo dovuto investire le nostre risorse in termini di tempo per diventare proprio più esperti, sia nella gestione degli hardware che dei software. Allora a questo punto, visto che ci occupiamo di agricoltura, di paesaggio, di ambiente, di ecosistemi, abbiamo proprio pensato al concetto di resilienza. Abbiamo pensato che questa accelerazione digitale è stata una reazione di resilienza allo shock che il Covid ha portato. Quindi è stato un modo per reagire a questo shock e riportarsi a delle condizioni produttive simili a quelle di partenza. Ma c'è sostenibilità nella resilienza? Io questa domanda la lascio lì. Purtroppo il tempo è davvero poco rispetto ai contenuti che volevo comunicare. Però diciamo che abbiamo costruito delle capacità nel team, abbiamo aumentato l'equilibrio tra vita e lavoro e abbiamo creato dei servizi digitali sostitutivi per integrare e sostituirsi a quelli precedenti. Tutto questo è frutto di un'intervista che ho fatto ai miei colleghi. Quindi sono proprio risultati diciamo di questo processo e sono risultati già presenti nella consapevolezza dei lavoratori e dell'azienda. In qualche modo si collegano, non posso dire che coincidano completamente, però si collegano a quello che l'Unione Europea vede come le imprese, le piccole e medie imprese nell'Europa del futuro, nell'Europa sostenibile digitale, anzi in un'Europa che è già presente e che va verso il futuro. Perché? Perché la Commissione si aspetta appunto che ci sia, che vengano costruite delle capacità, che quindi le piccole e medie imprese siano in grado di guidare la transizione al digitale e si possano impadronire sempre di più dei benefici che possono provenire dall'assoltamento dei dati. L'Unione Europea desidera ancora ridurre il peso di tutte le regolamentazioni e facilitare l'accesso al mercato. Ci sono degli strumenti che non sto a citare. Infine, l'accesso non solo al credito, ma proprio anche al cosiddetto fondo perduto in italiano, quindi alla finanza agevolata, sarà sempre più favorito proprio per le piccole e medie imprese, prevedendo delle fonti di finanziamento specifiche in tanti stream, in tanti filoni. Però voglio anche raccontarvi di una sorpresa che ho trovato. Quando ho iniziato a approfondire questo tema della sostenibilità digitale, non si parlava tanto del fatto che fosse sostenibile, cioè che è un po' l'approccio che gli stiamo dando adesso, quanto la digitalizzazione sia sostenibile all'interno dell'impresa, ma quanto la digitalizzazione sia uno strumento della sostenibilità. Quindi sia qualche cosa che non solo noi riusciamo, un po' arrancando l'inizio, a sopportare, superare e sfruttare finalmente, ma anche qualcosa che ci rende capaci di agire meglio, di agire in modo più sostenibile. Quindi è quell'insieme di attività organizzative che cercano di avanzare lungo il percorso tracciato dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, attraverso lo sfruttamento creativo di tecnologie che creano, usano, trasmettono, o addirittura sono fonte di dati elettronici. Quindi la digitalizzazione diventa il nostro toolkit che ci rende capaci di fare questo. Chiudo con un concetto che è quello della sostenibilità, quindi resiliente. Vi invito e ringrazio qui Reghine che mi ha proprio suggerito di inserire questo link allo Stockholm Resilience Center, dove c'è un dibattito meraviglioso in corso sulla sostenibilità della resilienza. Quindi creare questa idea di resilienza che è intrinseca, embedded in the humans, come diceva prima Flavia, che abbiamo anche noi incorporata in questa capacità di risalire sulla barca, di resistere e creare di nuovo delle condizioni di ottimo produttivo, che diventi proprio un modo di pensare. Per cui quell'inerzia al cambiamento può essere in qualche misura, non dico sostituita, ma più velocemente superata da un Resilience Thinking, che è un modo di pensare in grado di imparare continuamente ad affrontare il cambiamento. Quindi imparare a cogliere la diversità, adattarsi alle sfide più complesse, ma anche con un toolkit, quindi con una cassetta degli attrezzi che si arricchisce sempre di più di strumenti di lavoro e che ci permette di pensare in maniera socio-ecologica, trovare modi innovativi di riconnetterci con la biosfera e guardare al nostro ecosistema a livello planetario, quindi cercando una sostenibilità e una giustizia socio-economica, ambientale di tipo planetario. Chiudo qua. Questi sono i nostri indirizzi dell'azienda, perché in qualche modo ci ha dato lo spazio per fare queste riflessioni insieme. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.